Ah, è the time of my life Sì, certo, ma... No, mi dispiace, non vi porteremo con noi 8FM TV Party Noi suoniamo sempre 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 Gli originali 8FM TV Party Sabato 29 novembre L'allegra gang del decennio più spensierato di sempre Torna al Picasso per farvi ballare i più grandi successi dance degli anni 80 Sabato 29 novembre Siate originali Originali Venite al Picasso di Vergiate Info e prenotazioni 335 6389 999 335 6389 999 8FM TV Party Per quelli che gli anni 80 ce li hanno dentro